E non c'è bisogno di niente, ai 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 Quando la notte ti prende, ai 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 Tra il cielo e la savana, tutto girava Già un po' buona, dicevi tu Guardando me Guardando me Segui il fiume all'orizzonte Dove l'estate non cambia colore Da più vicino anche il sole Sopra la linea dell'equatore Tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu Voglio andarci con te E non c'è bisogno di niente Buon calcore! No, 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 no! Sta andando bene, dai, stiamo prendendo confidenza con la macchina, ora siamo a due secondi e mezzo dal decimo assoluto, noi ci proviamo, ovvio che ci proviamo, lei è d'accordo, lei pensa che non dica nulla, quindi va bene, sì, dai, ci proveremo, siamo qui per quello, dai! Due parole da Lucia? Eh, niente, un grazie a Francesco che mi sta facendo divertire tantissimo. Ah, beh, allora grazie anche a me, dai, grazie a me! Ok, in bocca al lupo, ragazzi! Vive il lupo, vive il lupo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! il numero 49 signori sono arrivati, nomi assoluti, primi di classe resistante, numero 2006, primi di gruppo resistante, 27 minuti e 30 secondi netti, una bagaglia, potete vedere, è ancora più avanti, di Moscavino, ma è l'assoluta perché siete arrivati dietro di una cina, veramente, di pochissimo, allora io chiedo, Fais, forse racconta questa bellissima gara, quando devi fare questa stata? Guarda, intanto complimenti all'organizzazione, complimenti al parco partente, per il gruppo di 10, veramente difficile, veramente bellissimo, che grande, grande, grande questo istituto, intesa, vi è compagno, Pais Blu! G.S. La scuola via, la stessa di Marino Gessa, che è sanito sul parco, e questa è già la sua gestione, 20 secondi netti, ora è il tuo posto che non è, facciamo salire,